... ecco il risultato La battaglia d'argento, la battaglia di 6 a 1. Facciamo un grande, grandissime, chiamo un applauso, la battaglia di Canica, Piacenza. A Celeste e Parche. Prende il direttore delle mani del direttore generale, il maschio di funzione, accorto a Santa Maria. Ecco qua, perfetto. Eccoli qua, un altro bell'applauso, questa Peppa Pedretti interna però. La retta, il perfetto, con le mani della capitana, Paola Bacci. Vince la Coppa Italia di 6 a 1. Fanta Pedretti per il cammino. Giusto un applauso del Paola Bacci a quella letta di una 200 di pazzesca. La battaglia. 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 La battaglia.